Ben trovati con l'almanacco di Barbanera dal 1762 Giovedì 4 ottobre si festeggia a San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia Il nome deriva dal germanico francisc, che vuol dire del popolo franco Nel Medioevo il latino franciscus finì con l'indicare il popolo francese e da questo aggettivo derivò franceis, da cui il nostro Francesco E tra i nomi più diffusi in Italia, grazie al santo di Assisi Dice il proverbio, per San Francesco dopo il caldo viene il fresco Sono nati il 4 ottobre su San Sarandon, Luis Sepulveda e Francesco Baccini Il 4 ottobre del 1883 il celebre treno passeggero Orient Express compie la sua prima corsa messo in servizio dalla Compagnia Internazionale de Vagolli in origine collegava Parigi e Giorgio in Romania, via Monaco di Baviera e Vienna Nel 1993 torna in edicola dopo 40 anni il quotidiano socialista Lavanti Una delle testate che hanno segnato la storia d'Italia Infine il 4 ottobre del 1957 dalla base spaziale in Kazakistan viene lanciato lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale della storia Era stato progettato dal russo Sergei Koroloyov Martin Lutero ha detto non può esserci animo cattivo laddove cantano degli amici Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!